la giornata non è granché allora cosa meglio di una sessione di palestra visto che il sole non si può prendere allora vi porto in palestra di P.D. Island a farvela vedere la palestra di P.D. Island è stata costruita quest'anno su questa struttura qua che guarda la baia che è là quindi la posizione è invidiabile questo è l'ingresso andiamo su ok Sì 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 La palma di Natale. Per chi ha bell'età di fare kai boxing. Ciao. Fine. Tutto qua, e adesso vado a lavorare. Qui. Che volo di dire. Vai. Boni. Buongiorno.